Stanno partito? Allora raga, in questi giorni abbiamo bestemmiato Ne abbiamo tirato di tutti coloro Giocando a Nonna Granny No, stavo controllando una cosa Adesso voglio sbloccare Il finale, che non ho mai sbloccato Mai un finale in tutta la mia vita Senza la nonna, ok? Perché sì? Perché con la nonna è un po' difficile, va bene? Quindi ho intenzione di sbloccarlo senza la nonna E in teoria la pratica non dovrebbe avere la nonna Adesso verifichiamo facendo rumore Se non arriva la nonna Allora possiamo andare liberi Nel prossimo episodio giocheremo Allora, ho scaricato Evil Nun Poi porterò alcuni video di troll face quest horror Perché è horror Quindi è importante Perché è horror E noi abbiamo detto che faremo i video horror In questi giorni Quindi per calmare un po' dopo tutti Anche se non siamo in periodo di Halloween Masticati Per non... per calmare un po' gli animi Dopo tutti questi giochi horror Allora, ci voleva un po' di roba tranquilla Quindi troll face Secondo me è la cosa Allora Già che quando gioco con la nonna C'ho l'ansia Anche quando gioco senza nonna C'ho l'ansia Allora, io oggi volevo sbloccare entrambi i cosi Entrambi i finali Uno lo sblocchiamo oggi e uno domani E poi giochiamo all'altro gioco Che sinceramente solo a pensarci Mi fa cagare il gioco In teoria nella pratica ci dovrebbe essere Il nonno Ma il sogno Poi ovviamente porterò anche Spiro Cioè Non mi sto promettendo niente In questo momento Sto dicendo che forse Porterò anche il gioco Quello del Del nonno Spiro Spiro Un botto di rumore Se c'ero la nonna Io adesso Dovrò nascondermi Di brutto Di qua si va dal ragno Però qua Non sta niente Il ragno oggi Lo volevo andare a vedere Volevo andare a vedere il ragno oggi Perché non l'ho mai visto Se sta ovviamente Nella pratica Poi non lo so se sta nella pratica Sinceramente Questo è il gas Quindi lo dovremmo mettere alla fine Lasciamolo qua Così Qua ci abbiamo la canna Però il fucile Non ci serve Vabbè Si sta il ragno Oddio Oddio Il tappo al 5 Ma che è Scorreggia Sto facendo un sacco di rumore Che stava la nonna Adesso che ero già morto Perché quando sta la nonna Vedi però quanti pezzi Bisogna mettere alla macchina Lo capite Che è difficile Finire nonna Nel poco tempo Con quella dentro Non puoi perché ti ammazza sempre Il libro può essere da portare alla zia Non so se poi quella è la fine Poi lo prendiamo dopo Per esempio Apriamo qua Vabbè apriamo dopo qua Adesso Prendiamo Questo è la fine Prima di finire la macchina Questo ci servirà sempre dopo Questo Codice parla porta No questo Che serviva questo Ah Va bene Così facile Allora Qua